Sì, sì, sì. Eccoci qua. Aspettiamo un minutino e poi partiamo. Qui fra un po' di luvia è diventato tutto nero. Ah, sì? Sì, 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 proprio. Ma entra l'acqua? Entra l'acqua? No, è perché... Lì, qualche volta entra. Qualche volta entra. Essendo un palazzo del 700, qualche volta entra. Però, insomma, è anche parte del fascino. L'acqua, i piccioni. L'importante è che non si allagano i libri, perché, insomma... Sì, l'altro giorno... Vai, dita 7 e 05. Vai, Simona. Ok, ci sono. Eccomi. Allora, dunque, innanzitutto, benvenuti a tutti, sia coloro che stanno intervenendo, e soprattutto i nostri ospiti, diciamo, che hanno, così, con grande cortesia e spirito di disponibilità, dato il loro ok, insomma, per questo incontro. Io sono il direttore del Master Pass, Professioni per la Comunicazione dell'Antico, e facciamo questo evento, che è un secondo evento che abbiamo calendarizzato, di promozione, proprio di lancio di questo Master, che dovrebbe partire quest'anno asemico. E, brevemente, io non voglio togliere lo spazio e il tempo ai nostri ospiti, che comunque tutti aspettiamo di ascoltare, con grande interesse. Volevo semplicemente ricordare che si tratta di un Master unico, in questo momento in Italia, un Master che, diciamo, mira a creare delle figure che possano comunicare, che acquisiscano le competenze per comunicare dei contenuti specialistici, storico-archeologici, a diverse fasce di pubblico. È rivolto a chi ha già una formazione umanistica, è infatti un Master di secondo livello, quindi siamo al terzo livello della formazione universitaria, per chi ha un diploma di laurea, vecchio ordinamento, o una magistrale, ma, quindi, presuppone una formazione umanistica, ma mira a dare delle competenze specifiche in un altro mestiere, che è quello della comunicazione. Non necessariamente chi possiede i contenuti umanistici sa comunicarli, di questo abbiamo tantissimi esempi in giro, e noi abbiamo pensato proprio di creare un Master che miri a creare queste figure. Gli ambiti del Master sono tre, del primo abbiamo parlato nel precedente webinar, e quindi, diciamo, quello che si occupa un po' di che forma, giornalisti e figure che lavorano sull'editoria. Il secondo ambito è quello dell'immagine e dell'audiovisivo, il terzo è quello dell'edutainment, quindi, altra parola inglese per la gioia di Dario, tutto ciò... Aggiungi tutorial, aggiungi tutorial ancora. Diciamo tutto ciò che, perché in italiano ci vuole più tempo, ecco, tutto ciò che mira a comunicare attraverso il gioco, il videogioco, il fumetto, eccetera, anche di questo parzialmente abbiamo parlato nel primo webinar. Oggi invece lasciamo tutto lo spazio, tutta l'attenzione al secondo ambito, che è quello dell'immagine e dell'audiovisivo. E abbiamo qui con noi due ospiti di eccezione, che sono il regista, autore RAI, Eugenio Faroli Vecchioli, che è l'autore anche del programma della RAI, di RAI Cultura, Italia, Viaggio nella Bellezza, e il direttore artistico del Firenze Archeofilm, Dario Di Blasi, che è un po' l'inventore, diciamo, di come comunicare, ha avuto questa intuizione tantissimi anni fa, se è stato un po' il primo, come comunicare attraverso la documentaristica archeologica e il cinema archeologico. E coordinerà il tutto Cinzia, perché qui stiamo parlando di offrire di competenze, cioè dare la capacità di acquisire un nuovo mestiere. Cinzia Dalmaso, la nostra giornalista, che ha una formazione storico-archeologica, di tutto rispetto, ma che poi a un certo punto si è inventata un secondo mestiere, cioè come comunicare questi contenuti. Quindi penso che sia anche un po' l'occasione per vedere quello che ha fatto lei, come lei è arrivata a costruirsi un mestiere che presuppone una tecne ben precisa, e poi lascio a lei la parola perché coordinerà, diciamo, i nostri ospiti. Grazie a tutti, mi taccio. Buon lavoro. Bene, grazie Simona per questa bella presentazione. Comunque oggi l'argomento è l'audiovisivo, quindi di me non parlerò tanto, però mi piace invece un po' continuare il tuo discorso sulla scelta di fare un master di secondo livello, che mi pare molto importante. Perché insomma, quando si comunica bisogna conoscere bene ciò che si comunica. Quindi io l'ho sempre sostenuto da tempo, che bisogna prima avere una preparazione oramai comunicatori, si è comunicatori in mille ambiti. Bisogna anche conoscere bene l'argomento che si comunica. Quindi una solida preparazione di base sugli argomenti, nel nostro caso la storia antica, l'antichistica in generale, è fondamentale. Poi però al giorno d'oggi tutti comunicano e sinceramente io sono convinta, io l'ho imparato a mie spese, l'ho imparato facendo la gavetta, seguendo bravi maestri, frequentando, vivendo all'interno delle redazioni dei giornali e lavorando tanto, lavorando e sbagliando anche insomma. È così che si impara il mestiere. Quindi una scuola vuole essere un po' un avvio a questo tipo di attività e anche dare una serie di dritte, di indicazioni per poi poter procedere autonomamente. Sinceramente io lo dico spesso, mi sarebbe piaciuto aver avuto una scuola invece che essermi fatta da me a suo tempo, perché io ho cominciato diciamo nel secolo scorso, lasciamo stare gli anni. Infatti Eugenio Fagioli-Vecchioli che è qui con noi, lui ha seguito il master in comunicazione della scienza alla Sissa di Trieste. Purtroppo, per fortuna, io stessa ho lavorato molto con comunicatori scientifici. Il campo della scienza è sempre stato considerato difficile, tra virgolette, e quindi insomma è stato ritenuto, si è ritenuto necessario formare dei comunicatori della scienza molto prima di quanto stia accadendo adesso negli ultimi anni nel campo umanistico. Le scuole di comunicazione della scienza esistono già dagli anni 70-80 del secolo scorso, quella della Sissa di Trieste è stata la prima in Italia e tra l'altro è una tra le più importanti a livello, tuttora, tra le più importanti a livello europeo. Ecco, quello che cerchiamo di fare noi con questo master è un po' trasporre il modello, diciamo, di formazione nel campo scientifico nel campo umanistico ed è indispensabile, è importante. Io racconto la mia esperienza. Quando ho deciso di fare la giornalista ho avuto anche un successo abbastanza immediato, devo dire, mi hanno chiamato tutte le redazioni dei giornali, esperti dell'antico, diciamo, erano molto favorevoli alla mia attività, perché cosa dicevano? Finalmente una giornalista che capisce. E questo vi dà la misura di come fosse la situazione a suo tempo, e cioè c'erano da un lato, che ne so, i vari, che ne so, Luciano Canfora che comunicava molto più di adesso, una Eva Cantarella, cioè specialisti che comunque avevano doti comunicative, scrivevano sui giornali, comparivano in tv, eccetera. Dall'altro lato le notizie correnti venivano date da chi in redazione era, insomma, c'è una notizia di antichistica, c'è quello che ha fatto il classico in redazione, e poi tu che hai fatto il classico. Aver fatto il classico non significa conoscere e sapersi muovere fra le notizie, saper giudicare anche le notizie riguardo al mondo antico o gli argomenti riguardo al mondo antico, saper intervistare le persone giuste, sapersi muovere in questo senso. E quindi questo produceva articoli che agli addetti ai lavori facevano drizzare i capelli. Io sono arrivata con il mio background alle spalle, aiuto, usate una parola inglese, con la mia conoscenza del mondo antico alle spalle, sono filologa in realtà di formazione, e però poi ho deciso di imparare a comunicare. E questo è stata, quindi non credo di essere un professionista migliore di altri, ho fatto probabilmente quel che serve per comunicare nel modo giusto, ed è quello che questo master propone. Ecco, perché comunicare non significa solo trasferire delle informazioni, significa anche costruire un'idea di comunicazione. Adesso si parla di storia, ed è vero, costruire una storia, creare un'idea. E a questo proposito Eugenio Farioli Vecchioli ha qualcosa da dirci, vero Eugenio? Lui che appunto ha nella documentaristica una lunga esperienza e attualmente come autore responsabile dei programmi di benvenuti culturali di Rai Cultura, insomma, ne vede passare parecchi di documentari. Cosa ci può dire a questo proposito Eugenio? Grazie Cinzia, intanto buon pomeriggio a tutti. Sì, io devo dire, approfitto intanto per collegarmi a quello che dicevi prima tu sull'importanza di un master di secondo livello. Mi ricollego brevemente. Io ho uscito dall'università, ho cominciato a lavorare un anno in Rai e poi ho avuto questa occasione di partecipare al master della Sissa. All'epoca parliamo della fine degli anni 90. Era un master che era inteso molto sulla parte teorica. Non c'era quest'ansia di proporre un insegnamento che avrebbe immediatamente dato uno sbocco e un inserimento nel vari mondo del lavoro, della comunicazione scientifica, giornale, televisione. Ma era davvero inteso come un completamento della formazione. Era un master aperto a medici, biologi, chimici, matematici, chi come me veniva invece da Nolara in filosofia. E devo dire che sono un'esperienza formativa per me straordinaria. Credo che oggi ancora più di allora ci sia bisogno di un tipo di insegnamento che, lasciatemelo dire, sia ancora un po' vecchio stampo. La conoscenza è importante, la riflessione su certi temi è importante, il poter ascoltare chi, diciamo, su quei temi lavora è importante. Se tutto questo è fatto a un certo livello, l'inserimento nel mondo del lavoro diventa più semplice, più semplice, perché tanto oggi, come oggi, scorciatoie non esistono. E allora è meglio prendere la salita subito, piuttosto che cercare le scorciatoie. Questo è un master che cerca di insegnare a raccontare il passato. Allora io ormai sono quasi più di vent'anni che lo faccio e devo dire che se ci penso adesso all'inizio, lo facevo secondo me inizialmente in una maniera molto ingenua, come spesso fa la comunicazione. Nel senso che diamo il passato per un qualcosa di acquisito, di scontato, di dato una volta per tutte, che ci viene restituito dagli storici, dagli archeologi, un qualcosa che sta lì, noi lo prendiamo e lo raccontiamo. Ecco, devo dire che più sono andato avanti in questo lavoro, più ho capito che era il punto di pertenza assolutamente sbagliato. Il passato è una nozione molto problematica, molto scivolosa, direi, e sono quasi convinto ormai che il passato non esiste, insomma, è qualcosa che costruiamo, ogni epoca costruisce il suo, è il frutto di un processo, se vogliamo, sociale, culturale, intellettuale. Questo rende ovviamente la questione più problematica, però apre una serie di prospettive narrative molto interessanti. Nel momento in cui ho capito che era meglio affrontarlo questo tema, diciamo, sono riuscito secondo me, siamo riusciti con il mio gruppo di lavoro, ad aumentare le potenzialità narrative del documentario. Faccio un esempio brevissimo che forse può dare un attimo, mi è capitato a un certo punto di fare un documentario che raccontasse le palafitte, le palafitte dell'arco alpino. Le palafitte dell'arco alpino sono un insieme di siti, tre storici, appunto, distribuiti su Italia, Austria, Francia, Svizzera, tra l'altro dal 2011 sono diventati patrimonio, un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sono siti che restituiscono una monumentalità davvero scarsa. Abbiamo dei pali, una selve di pali che escono da, spuntano dai laghi, alpini, dalle extordiere, restituiscono parecchio materiale, oggetti ovviamente, soprattutto la vita quotidiana. Allora, diciamo, lì le scelte erano due. Uno poteva cercare di raccontare, come oggi è un po' il mainstream di certa comunicazione, come si viveva al tempo delle palafitte. Una concezione del passato molto immersiva, prendere lo spettatore e portarlo a vivere una giornata delle palafitte alpine. Oppure, quello che mi è sembrato invece molto più interessante, era raccontare come la percezione di questi siti, il mito delle palafitte, è cambiato dall'Ottocento, da più o meno quando sono state scoperte e autorizzate, ad oggi. E questo ha aperto sicuramente delle cose molto più interessanti. Le palafitte erano più o meno per la Svizzera dell'Ottocento, per la nuova borghesia Svizzera, sono state una sorta di mito. Voi pensate anche soltanto a un fatto. Siccome i pali delle palafitte erano molto stretti e molto vicini, veramente si vedeva una selva di pali, gli archeologi svizzera avevano immaginato che i cosiddetti palafitticoli costruissero una piattaforma comune per tutto il villaggio, sulla quale venivano costruite le case. Questo è un dato molto, può sembrare molto normale, ma quest'idea era stata amministrata a tal punto che era una sorta di anticipazione del concetto di equalitarismo svizzero, di un paese neutrale dove tutti collaboravano insieme, costruivano su una struttura comune. Tra l'altro si trovavano poche armi nei laghi svizzeri, quindi questo ti aveva fatti credere che erano addirittura una popolazione pacifica, erano poi pacifici gli svizzeri nell'ottocento e il novecento. Fino a costruire veramente un mito, il cosiddetto le mit lacustre, cioè il mito dei lacustri. Vabbè questa visione poi archeologicamente è stata smontata, tra l'altro da un insegnante elementare del Trentino, che si accorse che questa era assolutamente un'invenzione e capì che il quadro che era stato dipinto andava un po' decostruito. Questa è una vicenda molto interessante perché voglio dire, nell'ottocento guardavano queste serve di pali, le hanno guardate nel novecento, le guardiamo oggi, ogni epoca le guarda in maniera diverso ed è molto interessante capire in che modo cambia lo sguardo su quel pezzo di passato. Questo credo che sia per esempio uno dei temi che mi abbia più affascina e gli esempi possono essere numerosi. Bene, ok, grazie. Quindi sì, certo, cercare di trovare degli sguardi diversi per raccontare un tema, come dici tu, quello delle parafitte, però da un'angolatura che ti dà anche una una visione diversa nel tuo caso, insomma, è quella di come nella storia, da quando sono state scoperte, le parafitte sono state interpretate e utilizzate, insomma, a fini politici e sociali, insomma, ecco. No, assolutamente, insomma, bisogna trovare una chiave appunto per comunicare questo, farsi vedere un'idea, non raccontare le cose to cure. Oppure usare il mezzo, il mezzo visivo, diciamo, usarlo in modo dinamico, in modo da raccontare storie che magari a parole o con la scrittura si dovrebbero raccontare con tante frasi, troppe frasi anche noiose. Vero Dario? Allora, Dario di Blasi, l'ha già detto, l'ha già detto Simona, è appunto il fondatore, adesso dirige l'archeofilm festival di Firenze, ma ha fondato nel 1990 il festival del cinema di Rovereto, che è, insomma, uno dei primi, lui, parlavamo, insomma, festival sono nati in Francia negli anni Ottanta e poi, insomma, lui nel 1990 comunque è stato uno tra i primi al mondo, perché adesso festival del cinema archeologico ce ne sono ovunque nel mondo e Dario fa anche parte di questo circuito dei festival a livello mondiale, quindi è uno che negli ultimi 40 anni, schiedo scusa, 30 anni di documentari anche prima, ne ha masticati un bel po'. Ecco, la tua idea invece di usare il video per comunicare in modo più immediato ed efficace, qual è? O Dario? Ma intanto una precisazione perché non voglio apparire immodesto, ovviamente chi ha iniziato questa storia, questa vicenda del cinema archeologico è stato il Museo Civico di Rovereto, in cui io collaboravo, evidentemente io ho, come dire, fin dall'inizio ho partecipato a questa ricerca e a questa idea, ma il merito è di una istituzione, in questo caso una vecchia istituzione austro-ungarica che poi è diventata ovviamente un'istituzione museale italiana. Ma a parte questo, nei vostri interventi avete detto tra le righe una cosa, che il termine documentario va molto precisato, il documentario è un'opera cinematografica sempre di più, è un'opera che contiene una storia che ha un capo e una coda, cioè è un racconto. Ecco, io in questi anni di esperienza, che ormai sono più di 30, mi sono accorto di una cosa, che il nostro paese è un paese il cui paesaggio storico, archeologico, monumentale è tale che potrebbe offrire mille, più mille storie al cinema. Le offre alla letteratura, guardate il successo che ha avuto Valerio Massimo Manfredi nel scrivere le sue opere e così via. E io ho notato che sono quasi sempre le case di produzione straniere, cinematografiche, che realizzano opere che riguardano, come dire, l'archeologia, la storia, il panorama di tutto il mondo. Ma molto difficilmente vengono in Italia a realizzare qualcosa. E la committenza, solo recentemente la RAI si è attrezzata per produrre direttamente questo tipo di opere, ma la committenza in genere della RAI o delle altre reti televisive italiane è mancata per molti anni. Quindi da noi chi ha prodotto film li ha prodotti a proprio rischio o pericolo, ha cercato poi di, come dire, di farli vedere, di venderli, ma nel nostro paese è sempre mancato il mercato. Allora mi sono chiesto perché le case di produzione straniere non vengono e non realizzano filmati in Italia, che è un paese che offre, come ripeto, mille racconti e mille storie. Io vi faccio un esempio. Io conoscevo, ero amico, ci siamo confrontati e spesso anche abbiamo litigato sui film con Sebastiano Ottusa, che ora non c'è più. Io mi ricordo che quando lui venne nominato assessore ai beni culturali della Sicilia, io subito gli scrissi, prima che lui fosse sommerso da mille problematiche, gli scrissi, perché non facciamo, specialmente in Sicilia, che offre, come dire, un panorama della storia italiana eccellente, perché non facciamo dei bandi in cui si chiede ad archeologi, ma non solo ad archeologi, a chiunque ne abbia la capacità, la voglia, eccetera, di scrivere racconti per il cinema, in maniera tale che le case di produzione, anche francesi, inglesi, eccetera, abbiano già come proposta un racconto, una storia su cui realizzare un cinema, perché non ci sono le persone che, come dire, che scrivono questi storyboard, anche io uso un termine, queste sceneggiature che scrivono per il cinema queste cose. Ecco, questa è una delle attività che in un master potrebbe, come dire, ricevere un'attenzione da parte di chi lo frequenta, cioè scrivere racconti per il cinema, perché questo è un modo di comunicare il proprio territorio, il proprio paesaggio storico, per ridare un'identità anche a molte persone che hanno abbandonato l'idea che il proprio territorio abbia un valore, abbia un significato nella loro vita. Dario, ma tu credi adesso, per andare un po' più sul concreto, perché insomma, persone che magari devono pensare se seguire il master o meno, cioè c'è veramente una possibilità per un archeologo che abbia una buona idea di bussare alla porta di produttori di documentari e di essere ascoltato, insomma, cioè che futuro c'è? Per noi abbiamo, insomma, il nostro master noi ci crediamo chiaramente e quindi pensiamo che debbano essere gli storici e gli archeologi, gli esperti di antichità che costruiscono le storie e noi vogliamo formare esperti del mondo antico che sappiano anche costruire storie. Però dobbiamo cercare di capire anche che mercato c'è. Esatto, tu dici, servono autori, ma se io vado da arte, me lo... Ma scusami, ma scusami, voi avete visto quale successo ha avuto quello che ha scritto Camilleri che poi è stato trasformato, come dire, in Montalbano? Avete visto che è successo? Avete visto quale indotto ha provocato in quelle zone della Sicilia? Ecco, questo tipo di cose può essere fatto molto meglio dall'opera cinematografica che rappresenta un territorio, che rappresenta una storia, che rappresenta un paesaggio, che rappresenta la nostra anima, l'anima del, come dire, delle idee migliori dell'uomo. È molto meglio questo tipo di opera cinematografica che non la fiction. Esistono in Italia diverse cosiddette film commission che offrono al produttore delle risorse per realizzare dei film. Ma, per esempio, la film commission della Sicilia, se esiste la film commission della Sardegna, perché non destina una parte delle proprie risorse per questo tipo di opere che attraggono molto di più il turista. Esiste in Germania una trasmissione televisiva, che si rivolge proprio ai viaggiatori, ai tedeschi che viaggiano. Anche noi potremmo farlo, perché questo offre la possibilità di scrivere opere cinematografiche, fare opere cinematografiche di questo tipo, offre la possibilità che i propri territori vengano valorizzati turisticamente, ma in senso concreto non vago, con un successo di presenze. Quindi ci deve essere un impegno più concreto da parte delle amministrazioni locali in generale, oltre che delle film commission. Da questo punto di vista, però, Eugenio Ferrioli-Vecchioli insomma, lavora inquadrato all'interno di uno dei grandi, del nostro produttore nazionale principale, che è la RAI, ed ha un po' anche il polso della situazione a livello internazionale. Gode di buona salute, Eugenio, la documentaristica e che futuro intravedi tu per la documentaristica nel nostro settore? Beh, allora, direi che concordo quasi al 80% con Dario, nel senso che ha goduto di, almeno in Italia, di poca salute negli ultimi decenni. È un trend che credo che stia cambiando, comunque ci sono le condizioni oggi formidabili perché possa cambiare. Intanto, per un fatto, Dario parlava di un prodotto cinematografico. Attenzione, oggi ormai parlare di prodotto cinematografico significa parlare di prodotti che vanno sulle grandi piattaforme. Parliamo di Netflix, parliamo di Amazon Video, parliamo anche della piattaforma pubblica. RaiPlay oggi è uno strumento che consente di avere una possibilità enorme rispetto a quello che poteva essere solo 5-6 anni fa. quindi si sta aprendo uno spazio importante. Diciamo, il documentario come genere ovviamente è un genere che ha una lunga storia ed è stato a lungo trascurato. In Italia, secondo me, per un fatto ben preciso, cioè la comunicazione italiana, pensiamo soprattutto a quella televisiva, ha imboccato una strada sostanzialmente, cioè la strada di affidare spesso il racconto al mediatore, al grande divulgatore che prende per mano lo spettatore e lo accompagna. E questa formula è una formula che ha avuto in Italia un successo enorme, strabiliante, inutile. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo ovviamente di Angela Padre, di Angela Figlio e di tanti altri personaggi. Ora, questa è una formula che in Italia ha funzionato molto, però per esempio è una formula che all'estero non funziona. Cioè noi abbiamo difficoltà a vendere questo tipo di prodotti che da noi hanno molto successo all'estero. Noi per esempio abbiamo sempre scelto un discorso diverso, cioè un discorso di rinunciare alla figura del mediatore, del divulgatore di professione e affidare il racconto alla scrittura, all'invenzione di una storia e a, tra virgolette, gli esperti. Noi intendi come, scusa, intendi come noi avrai. Sì, diciamo, i prodotti che seguo io per esempio a Rai Storia, diciamo Rai Cultura. Quindi nei nostri documentari uno vedrà una voce fuoricampo narrante e vede la parola agli addetti ai lavori, gli archeologi, gli storici dell'arte, gli ispettori, i direttori di museo. Questo ovviamente è, come dire, una scelta che è più, tra virgolette, più difficile. Cioè ci vuole più tempo, ci vuole più lavoro, nel senso che bisogna anche, questa per esempio è una cosa che all'interno di un master io alla quale dedicherei almeno tre lezioni, come fare un'intervista a un archeologo per tirargli fuori qualcosa che da un punto di vista di un documentario funzioni. Vi assicuro che non è semplice. Io ho lavorato per tanti anni in altri ambiti. Facevo un programma di sport, sfide, e dovevo tirar fuori emozioni a calciatori, eccetera, eccetera. E vi assicuro anche lì, ogni tanto, diciamo, la risposta era una scena muta. Gli archeologi ovviamente sono estremamente più preparati, estremamente più bravi a parlare, però poi magari hanno dei blocchi, diciamo, sostanzialmente e dei difetti, credo, comunicativi enormi. Uno su tutti, è una cosa su cui veramente vorrei lavorare sul master. Ormai c'è una specializzazione, una parcellizzazione del sapere tale che se io vado da un archeologo classico, che magari studia soltanto, si è specializzato in tre decenni del primo secolo dopo Cristo, in quel tipo di architetture, ma gli chiedo di farmi un quadro generale su una questione, spesso la risposta è scena muta, perché non si prende più la responsabilità di invadere il campo, magari, di colleghi. Ecco, questo da un punto di vista comunicativo è un grosso problema, perché significa che magari abbiamo gente preparatissima su un argomento, ma magari non lo sa comunicare, gente che lo saprebbe comunicare molto bene, ma non ci si arrischia perché esce fuori di qualche piccolo decennio rispetto al suo campo. Sono tutti aspetti su cui lavorare, però credo che questa strada, che poi è la strada che all'estero percorrono, cioè all'estero diciamo hanno, sì, alle volte hanno figure di grandi narratori, ma magari sono degli attori, ecco, un grande attore che va in giro e racconta una storia. Un pochino, secondo me, con fatica ci stiamo rimettendo un po' al passo, credo, e però credo che il futuro sia un po' questo, perché poi un certo tipo di TV generalista, ormai, soprattutto per le generazioni che oggi hanno meno di 40 anni, ha sempre meno appeal, e noi è anche a quel pubblico che dobbiamo pensare. Parlando di lunghezza di documentari, la lunghezza classica che attorno all'ora ha ancora successo, oppure, questo lo chiedo a entrambi, oppure si tende adesso ad avere dei documentari di lunghezza più breve, in modo che la gente sia più invogliato a seguirla? Non so, per esempio, i vostri festival, Dario, hai notato una presenza di, insomma, di documentari, cioè ci sono delle tendenze, ecco, volevo sapere se ci sono delle tendenze in questi trent'anni, quali tendenze puoi aver individuato? Sì, per i festival diventa un problema, in effetti, perché le, i, diciamo, i filmati che ci arrivano dal mondo anglosassone, ma non solo, anche dalla Francia, tendono sempre di più ad avere come tempo l'ora e mezzo, i 90 minuti, o addirittura di più. Adesso è più, credo sia più informato di me, Eugenio, perché non riesco a capire per quale motivo le televisioni internazionali, straniere, tendano a questo formato. Nei festival, ovviamente, come i nostri, come quelli che organizziamo noi, si tende a resistere, no? Perché evidentemente impegnare, noi che di solito abbiamo poco tempo, oltre a tutto adesso con le sale contingentate, poi col poco, col, presentare tutti i film da un'ora e mezzo significa non dare spazio a un'ampia selezione di filmati, però il racconto evidentemente è più articolato e documentato nel film lungo. Non è detto che molto, non è detto che questo tipo di opera regga e riesca a convincere lo spettatore, perché è difficile tenere un film un'ora e mezzo o più di un'ora e mezzo. Ma probabilmente è più un docufilm, insomma, quello che adesso c'è, diventa la lunghezza quella del film classico. Non è detto, non è detto. È proprio, credo che dipenda dal tipo di commissione, dal... Probabilmente all'estero lo fanno vedere in più puntate, non lo so, Eugenio lo saprà più di me. Allora, noi, diciamo, nell'ambito italiano, soprattutto nell'ambito di quei cosiddetti, diciamo, canali tematici, come può essere la storia, noi lavoriamo su due unità di misura, sostanzialmente. Cioè la mezz'ora televisiva, che sono 27 minuti, 26 minuti, e l'ora televisiva, che sono 52, 54, no? Il resto, poi, sono spazi che vanno riempiti, come si dice a noi, per quadrare ruola. E poi ci sono dei prodotti cosiddetti speciali, magari, che non so, di fronte a grandi anniversari, quest'anno c'è stato ovviamente l'anno di Dante, sono stati fatti prodotti che magari durano un'ora e mezza. Oltre l'ora e mezza, noi, per esempio, non andiamo mai. Magari qualche canale generalista fa degli speciali che possono dare di più. Credo che dipenda molto dalla natura del progetto. Io, voglio dire, negli ultimi anni abbiamo lavorato, per esempio, a dei progetti, erano dei mini documentari sui siti UNESCO, pillole di tre, due minuti e mezzo, tre minuti. Una sfida bellissima, perché non erano degli spot, ma erano proprio, avevano la pretesa di avere una struttura narrativa, che in tre minuti raccontava l'essenza di quel sito UNESCO. Ovviamente è un tipo di comunicazione completamente diversa, dove anche la scrittura è completamente diversa. È un tipo di prodotto che sicuramente ha avuto e ha delle funzioni diverse. Io credo che lo spazio sia ampio oggi, cioè, che ci sia spazio per tutti questi prodotti. L'importante è avere abbastanza le idee chiare su quello che si vuole raccontare. Alle volte, oggi si tende ad avere un pochino troppa paura, secondo me, dei tempi. Cioè, si pensa che il pubblico più di venti minuti di archeologia non li regga. Non è vero, secondo me non è vero. Il pubblico è quasi sempre migliore di quello che pensiamo noi. Questo lo dico. E soprattutto, credo che vada rispettato di più. Nel senso, un'offerta alta, che non sia mai banalizzante, è comunque un segno di rispetto. E devo dire che, quando ci si prova, il pubblico poi risponde. Risponde sempre meglio di quello che si crede. È un po' un alibi pensare che si fanno certi tipi di prodotti perché si segue il gusto del pubblico. In realtà, più che seguirlo, lo si sta formando. Con l'alibi che lo si sta inseguendo, lo si sta formando. Io, appunto, mi è capitato di assistere a varie edizioni, ai festival curati da Dario. Ho visto dei film lunghissimi, stranieri, che a me hanno incantato, devo dire. Ho visto delle cose corte, molto moderne, molto tecnologiche, che mi hanno lasciato molto freddo. Ovviamente poi c'è il gusto personale, insomma. Però credo che davvero oggi ci sia lo spazio e si stiano aprendo, diciamo, delle possibilità di fruizione, soprattutto. Molto ampie, molto ampie, davvero. Ho capito. Sentite, noi ci stiamo avviando un po' verso la conclusione del nostro incontro. Io avrei anche altre domande per voi, però vorrei sapere anche se c'è qualcuno che invece ha qualche curiosità da chiedere ai nostri due relatori. Quindi, Jessica, tu che raccogli le domande, hai... Sì, io sto mettendo piano piano tutti quanti come moderatori o relatori, ma lo sarei che do la possibilità a tutti quanti di far domande, se volete. Quindi con un po' di pazienza, magari se alzate la manina faccio prima, invece di passare... Ma hai già qualche domanda che così intanto... Ancora no. Ah, non ci sono domande per il momento. Ho capito. Quindi, insomma, in questo... In questo... Che cosa i nostri... Chi seguirà questo master, allora? Da Eugenio, che cosa si deve attendere da te? Che cosa si attende dalla sessione che tu un po', diciamo, gettirai sulla comunicazione audiovisiva? Allora, faccio prima a dire che cosa non si deve attendere. Non si deve attendere, perfetto. Allora, non si deve attendere una specie di corsi, di quei corsi impacchettati, che si vendono anche a fascicoli, una cosa, cioè come diventare regista in 30 o 60 ore, come diventare autore di un documentario in 30 o 60 ore. Perché non credo che sia possibile, non credo che sia anche utile. Invece, quello che credo che sia utile è ragionare intorno, intanto, ad alcuni temi teorici, secondo me, molto importanti, che sono quelli della costruzione di una narrazione del passato. Sollecitando, appunto, la riflessione, ripeto, su quello che a me sembrano dei concetti chiave, anche teorici, appunto, che cos'è il passato, un altro termine che oggi è imperante è quello di patrimonio. Oggi assistiamo alla patrimonializzazione del passato. Il brand, per esempio, il brand UNESCO è diventato un tema enorme, che sta su molti giornali e sulla bocca di tutti. Ma che cos'è il patrimonio? Come lo intendiamo? Come l'abbiamo inteso? Come lo intende, per esempio, un organismo internazionale come l'UNESCO? E lì, per esempio, si fanno scoperte, eh, si fanno scoperte che sono tutt'altro che scontate. E' una su tutte. Il primo sito italiano iscritto è stato nel 1979, l'arte rupestre da Valcamogna. Nello stesso anno viene presentata il Centro Storico di Roma e, mi sembra, il Cenacolo di Leonardo, sì. Allora, vengono presentati dicendo che Roma non ha bisogno di presentazione. Il Centro Storico di Roma è una cosa talmente importante, unica, ed è un patrimonio dell'umanità, che non c'è bisogno di raggiungere altro. E infatti viene bocciato, viene assolutamente bocciato. E viene bocciato perché, soprattutto, i paesi africani, nella seduta del Comitato Mandelonesco, non capiscono questo discorso di dare tutto per scontato. La Valcamonica era un dossier di candidatura scritto benissimo, che veniva molto ragionato, e soprattutto molto più comprensibile per culture diverse da quella nostra, che hanno quelle stesse incisioni nei loro territori, hanno quei stessi segni, hanno quella stessa grammatica. L'anno dopo Roma ci ha dovuto ripensare, ovviamente la candidatura è stata fatta ad hoc, è stata fatta meglio, e poi Roma nel 1980 è entrata. Il concetto di patrimonio ha cambiato molto negli anni, ed è per esempio un aspetto molto interessante seguire questo slittamento semantico che ha avuto il concetto di patrimonio. Mi piacerebbe molto ragionare di un'altra parola che è fondamentale quando si parla del passato, l'ossessione che abbiamo per l'originalità, gli originali, gli unici, tutto il mondo della copia. Anche lì è un mondo in cui si scopre che noi davvero abbiamo un retaggio molto occidentale, molto nostro, abbiamo una concezione degli oggetti anche archeologici veramente come reliquie, reliquie la cui semplice osservazione può migliorarci, diciamo, delle volte, quasi che brillassero di luce propria. Questa è una concezione che ha poco riscontro in altri mondi, diversi ai nostri, ma soprattutto ha poco riscontro anche nel passato. C'è tutto un interessantissimo discorso sul concetto della copia nell'antica Roma. Oggi nei musei ancora si trova la famosa scritta copia romana di un originale greco. Allora, copia romana di un originale greco, ci sono illustri archeologi e storici che hanno detto che è una bestialità, è un inseguire dei fantasmi che non esistono. Allora il tema della serialità, per esempio della copia, è un tema molto interessante che apre tutta una serie di dimensioni, così come quello del falso, per esempio. Senti Eugenio, qui c'è... Scusa, scusa Cinzia se ti interrompo, ma siccome abbiamo una domanda e invece di parlare sempre noi... Sì, stavo, la stavo, la stavo... Ah, ok, perfetto. Ecco, qui c'è una persona che chiede se il master offre una formazione specifica sulla sceneggiatura cinematografica di ambito storico-archeologico e se per approfondimenti si suggeriscono altri percorsi formativi. Puoi rispondere se darai delle indicazioni precise su come costruire una sceneggiatura. Sceneggiatura, sì. Assolutamente sì, direi che la parte centrale, direi che l'inizio è la fine per certi versi del discorso e contesterei il termine specifica perché non esiste una grammatica specifica, è unica. Una buona sceneggiatura è semplicemente una sceneggiatura che funziona. E, ahimè, non esiste una ricetta che può essere spiegata e direi che è un patrimonio da questo punto di vista immateriale, non materiale, diciamo. La trasmissione è orale e imitativa. Certo, però, insomma, è chiaro che saranno offerti gli strumenti... Assolutamente sì, assolutamente sì. ...attimamente che c'è uno possa costruire la propria sceneggiatura originale. Ecco, questo sicuramente. Abbiamo altre domande? A livello proprio di successo del documentario, poco fa, parlando con Dario, mi ricordava che una legge fascista che è stata abrogata solo poi negli anni 50, rendeva obbligatorio un documentario al cinema prima della proiezione del film. Ora, al cinema andiamo sempre meno a causa appunto dell'attuale emergenza sanitaria, però questi documentari che si realizzavano di pochi minuti, vero Dario, cosa ci racconti? Potrebbero essere un qualcosa da... cioè, è un'idea fascista e penso che i documentari fossero... Che è nata in quel periodo ed è continuata negli anni 50, perché io andavo molto spesso al cinema allora e mi ricordo appunto questa regola per cui prima del film della finzione passava sempre un documentario che era rigorosamente di pochi minuti, credo che i minuti fossero 12. Io ho avuto successivamente l'esperienza di conoscere... ho avuto la fortuna di conoscere Francesco Agliata della Panaria Film e i suoi documentari di 12 minuti, cacciatori sottomarini degli anni 40, l'opera dei pupi, la caccia al pesce spada e così via, erano tutti di 12 minuti e venivano appunto presentati prima dei film, immagino che i film di allora della Panaria Film fossero Stromboli di Dieterle, fossero La carrozza d'oro di Eranoire e così via. Non sarebbe male, anche se la frequenza nelle sale cinematografiche ora è un po' ridotta, non sarebbe male reintrodurre una formula del genere, anche perché si è persa la scuola, nel realizzare questo tipo di opere, questo tipo di, chiamiamoli documentari, che appunto si è persa la scuola. Esistono poi materialmente degli istituti, come a Merano, che hanno questa finalità, però la scuola in generale della documentaristica è scomparsa, o quasi del tutto. Cerchiamo di rivitalizzarla. Sentite, abbiamo un'altra domanda. Trattandosi di un Master professionalizzante, chiede Yuri, e quindi io adesso giro la domanda a Simona, che appunto dirige il Master, vi sarei grato se potreste darmi qualche informazione sui tirocini che esso propone. Simone. Simona? Simona o Jessica? Allora, innanzitutto grazie. Sì, vuoi rispondere tu Jessica? Vai te? Non ti vedo. No, no, vai Simona. Vai tranquilla, vai tranquilla. Vado io? Poi magari te aggiungi, se lascio qualcosa. Dunque, il Master prevede un monte orario di 300 ore, proprio destinato a uno stage, a un tirocinio, che chiaramente ogni studente può scegliere tra i tre ambiti. Diciamo, nella formazione generale, quindi in quello che è il monte orario di lezioni frontali, i studenti tutti saranno formati su tutti e tre gli ambiti. Però poi ciascuno, in base alle proprie attitudini, in base anche al proprio innamoramento, diciamo, dei vari settori, può scegliere di, diciamo, costruirsi un percorso più pratico, con uno stage o in azienda o in istituzioni, nell'ambito che appunto ritiene più affine ai propri desideri, insomma, alle proprie idee e anche ai propri obiettivi. Noi abbiamo già contattato diverse aziende, diverse istituzioni. Io qui lascerei la parola a Jessica, che ci fa un po' così il quadro di quelle principali che abbiamo contattato. Chiaramente, mi permetto anche di aggiungere una cosa, scusami Jessica, che questa parte di individuazione degli stage è anche una parte in divenire, nel senso che poi vorremmo instaurare con gli studenti anche dei percorsi, in qualche modo, guidati, cioè che vanno proprio a formarsi sui loro interessi, sull'interesse specifico. Ti lascio la parola, Jessica. Allora, sì, noi abbiamo, come diceva appunto Simona, abbiamo già un pacchetto tirocini, che è appunto in costruzione in fieri. Vi menziono soltanto alcuni. Allora, Mondadori Focus Storia è disponibile a prendere persone. Archeostorie, Cinzia ha dato la sua disponibilità. Poi Eadu, giochi educativi per bambini, il gruppo Lisciani, che sono sempre appunto due aziende leader per quanto riguarda il gioco educativo. Poi abbiamo Turisma, abbiamo il Firenze Arc Film Festival. Poi abbiamo la Rainbow, abbiamo Rainbow per, insomma, i marchigiani, i produttori delle bamboline, delle Winx, dei cartoni animati, di quelli che hanno fatto il primo film su Romolo a fumetti. Insomma, il primo è cartone animato, quando mi ero italiano, da mia conoscenza. E poi, chi c'è? Se non ricordo male, Ellie, che producono appunto libri per l'infanzia. Poi il nostro fumettista, disegnatore italiano, l'unico disegnatore italiano di Lupin III, ha dato la sua disponibilità per cercare appunto uno stage, qualcuno da inserire appunto in uno stage da qualche parte in azienda per la produzione appunto di manga, per lo storytelling e via dicendo. E poi speriamo che Farioli accolga delle persone, la butto là. Ah, poi chi altri? Adesso ce ne sono altri, adesso non mi vengono in mente. Ah, sì, certo, Bistory per i podcast. Insomma, è in fieri, i musei, chiaramente chi sono... I musei, tutti i musei delle marche che sono... Ci hanno dato disponibilità in questo, comunque insomma il pacchetto è abbastanza nutrito per ora. Diciamo che tutti gli ambiti, comunque tutti gli ambiti di interesse, sia la comunicazione audiovisiva che il solo audio podcast, la comunicazione museale, il disegno, edutainment, gaming e quant'altro hanno diciamo una possibilità. E chiaramente non ci limitiamo all'ambito regionale, cioè... Già con i due lisciani siamo uscite fuori regione perché siamo già in Abruzzo, però anche Bistory, insomma, siamo... E con Archeostorie, quindi non ci limitiamo al territorio... Vi posso consigliare, scusate, vi posso chiedere di prendere contatto con il Museo archeologico di Napoli perché recentemente, io collaboro con il Museo e recentemente sul piano della comunicazione stanno puntando molto e stanno facendo moltissime cose, quindi poi il Museo di Napoli è un mondo che si apre su tutto il sud Italia, su questo. Anzi, Dario, grazie per il tuo aiuto, insomma. Si vede che siamo una squadra, cioè lavoriamo anche questa... Diciamo, non c'è un pacchetto precostituito, ma... E questo spero, insomma, che sia anche una ricchezza in più da offrire ai nostri studenti. E ti sfrutteremo, Dario, per questo contatto. Grazie. Insomma, capiamo che questo master, so, Simona e Jessica hanno chiamato tanti amici e hanno costruito, devo dire, una bella squadra, adesso, cioè, senza parlare di se stessi, però una squadra di grandi professionisti in tutti i settori. Io, se non ci sono altre domande, vorrei fare una conclusione a Dario perché mi ha detto una cosa bellissima prima al telefono. Mi dice, l'amore fra l'archeologia e il cinema è sempre stato un amore molto difficile, però è possibile. Questa frase è bella e ce la devi commentare, Dario. Sì, difatti questa è una delle cose su cui intendo intervenire e usare anche proprio gli strumenti cinematografici di cui dispongo per riuscire a spiegare questa difficoltà. Ne ha parlato prima Eugenio, che è veramente, veramente difficile riuscire a coinvolgere gli archeologi su qualche cosa che non sia orientato al loro mondo. non hanno ancora una grande difficoltà ad incontrare il grande pubblico, però devono comprendere che il grande pubblico, il cittadino, è, come dire, il loro datore di lavoro principale. Cioè, loro lavorano per la comunità, non lavorano per il loro campo specifico, per il loro museo, per la loro università. Loro dovrebbero comprendere che comunicare è fondamentale perché ci siano sempre più risorse per la loro attività. Questo è un aspetto importante, però non ancora compreso del tutto e comunque ancora soggetto a molte regole burocratiche. Ecco, tra il resto, scusate, una breve parentesi. Io vorrei anche su questo spendere poi del tempo su uno degli aspetti che in Italia è ancora particolarmente ignorato, la preistoria. Ecco, il nostro paese sembra ricco solamente di paesaggi, come dire, e di paesaggi storici che riguardano la classicità Roma, la Grecia, ma il nostro paese è molto più ricco di ambienti che possiamo chiamare preistorici, anche perché la peristoria è un periodo temporale decisamente molto più lungo del periodo, come dire, cosiddetto classico o riguardante Roma. E noi abbiamo l'esempio della Francia. La Francia ha, come dire, dedicato alla preistoria risorse, attività, progetti, proposte. Ecco, io credo che anche nel nostro ambito della comunicazione noi dovremmo spendere un po' più di tempo su questo argomento, su questo aspetto. Sì, hai ragione Dario, perché noi, insomma, per noi l'antichistica, il mondo antico è il mondo greco-romano per eccellenza, o un po' il mondo orientale, proprio perché appunto ce l'abbiamo in casa e l'abbiamo sempre avuto in casa. In altri paesi, invece, diciamo, la forchetta si amplia molto di più, anche da noi ci sono i preistorici. Tra l'altro, ieri e l'altro abbiamo festeggiato i trent'anni dalla scoperta di Ezzi, dell'uomo del Similaun, quindi, insomma, abbiamo dell'eccellenza a livello mondiale in quanto riguarda la preistoria e non solo l'uomo del Similaun. Cinzia, è una sfida, è una sfida dal punto di vista comunicativo, perché la Romanità, la Grecia, ci lasciano dei luoghi, dei reperti, dei monumenti, ci lasciano della documentazione, ma la preistoria, cosa possiamo raccontare sul Neandertal? Quali sono gli appigli a cui dobbiamo ricorrere per raccontare la vita e il mondo dei Neandertal, o del Sapiens, o che ne so, dei loro rapporti? Tra l'altro è un mondo in cui la scienza continua a fare passi da gigante, insomma, nello scoprire, e fornisce di continuo delle risposte alle famose domande chi siamo, da dove veniamo. L'archeologia preistorica te le dà. Io ricordo che anni fa chiacchieravo con Colin Ramfrey, il famoso archeologo, e lui appunto mi ha detto io ho cominciato a studiare, e lui è un preistorico di formazione, io ho cominciato a studiare l'antico e la preistoria proprio perché volevo riuscire a capire, a capire, insomma, sempre più e sempre meglio, per quanto ci è possibile, da dove veniamo e chi siamo noi, come esseri umani. E questo la preistoria ce lo dà. Poi, chiaramente, insomma, cioè gli ambiti, il mondo antico è così vasto, che, insomma, fermarci alla Grecia e Roma o all'Egitto, insomma, agli ambiti più tradizionali, sarebbe anche poco onesto da parte nostra. Amplare lo sguardo è sempre necessario. E questo si richiama anche al discorso che faceva Eugenio, che ognuno guarda la storia dal proprio punto di vista, insomma. Anche questo la comunicazione dovrebbe, anche su questo dovrebbe fare un grande lavoro, perché noi sappiamo benissimo anche la storia che noi studiamo a scuola come italiani, non è quella che studiano i francesi o gli inglesi o d'altri, perché sono storie diverse, perché noi diamo più importanza ai nostri fatti nazionali, ognuno dà più importanza ai propri fatti nazionali. Personalmente, io sono andata a studiare negli Stati Uniti, questo a fare il dottorato di ricerca negli Stati Uniti, e mi sono subito accorta della prospettiva diversa da cui si guardava la storia. Cioè, fatti, avvenimenti che per noi sono fondamentali, che ci vengono inculcati sin dalle scuole elementari, che hanno i vari disegni dalle scuole elementari che ti rimangono impressi nella memoria, da loro venivano assolutamente trascurati, perché erano fatti, che ne sono nel meridione d'Italia, assolutamente marginali. Io ricordo il passaggio da Svevi, Angioini, Aragonesi, l'uccisione di Corradito di Svevi, ai Vespri siciliani, ecco, per fare un esempio. Da noi si studiano anche nelle scuole. Va in America, manco città, direi libri di storia medievale, proprio perché erano avvenimenti assolutamente secondari, anche se c'era stato un avvicendamento di grandi potenze per il dominio nell'Italia meridionale. ma l'Italia meridionale era secondaria dal loro punto di vista, insomma, quindi guardare, insomma, alla storia da vari punti di vista, come ci ha detto Eugenio, è anche questo un compito della comunicazione. E questo master è vero, come ha detto Eugenio all'inizio, che mira proprio a cercare di dare, di ampliare lo sguardo, di dare gli strumenti con cui anche interrogare gli esperti, per poter costruire delle narrazioni più ampie, più inclusive, a prescindere dal range cronologico, o da, scusate, dalla dimensione cronologica che abbiamo, che abbiamo scelto, insomma. Jessica, ti chiedo se ci sono domande, se non ci sono domande. Allora, io non vedo domande, però volevo aggiungere io un paio di cose. Allora, volevo ricordare che l'iscrizione al master scade il 30 settembre, quindi ci sono ancora dieci giorni per iscriversi, che ci sono a disposizione tre borse di studio per i primi tre classificati dopo colloquio che coprono parzialmente le spese del master, che chi, i residenti della regione Marche, possono chiedere la copertura totale, potenzialmente totale, con i fondi appunto regionali per le spese del master, e i dipendenti della pubblica amministrazione possono fare richiesta delle borse SNA e INPS. Ricordo anche che il master part appunto a fine ottobre o inizio novembre, adesso finalizzeremo il calendario, che le lezioni sono a settimana alterna, giovedì, venerdì e sabato, per dare appunto l'opportunità anche a chi lavora e chi è fuori sede di venire con una certa disponibilità, che visto che c'è l'emergenza covid ancora in atto, per quanto ci auguriamo che tutto questo finisca a breve. Le lezioni sono in presenza, ma in modalità blended, e ci sono una parte delle lezioni circa il 30%, se non coraggimi se sbaglio, è prevista in modalità online, quindi non c'è necessità fisica per il 30% di arrivare a macerata o di venire in sede. E poi cos'altro? Inoltre di questo 70%, in realtà poi ciascuno ha un margine di presenza che può spendere perché ha un 75% di obbligamenti d'età, quindi ecco questo anche un po' per far fare i conti soprattutto a chi è fuori sede, c'è un po' di flessibilità diciamo sulla partecipazione in presenza online. E le lezioni da fine ottobre e novembre ogni due settimane per fino all'incirca febbraio, marzo, adesso abbiamo contato all'incirca una decina adesso di settimane. Detto questo la mail la conoscete masterpass chiocciolaunianimc.it per qualsiasi domanda noi siamo a disposizione. Io ringrazio insomma che non c'è stata l'opportunità Cinzia che ha coordinato il tutto che è stata sempre come sempre preziosa e il dottor Farioli e il dottor Di Blasi per insomma la partecipazione e voi tutti che insomma siete stati così pazienti di starci ad ascoltare quest'oretta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Anzi thank you. Thank you. A vedi al termine Grazie a tutti.